Buongiorno e benvenuti su meteogiuliacci.it. Oggi giovedì 6 dicembre ancora molte nuvole sulle regioni centro-merdionali a causa dell'aria fredda che continua ad affluire dalla Francia e che scorrendo sopra un mare ancora relativamente caldo provoca fenomeni di instabilità. Peggiora invece domani soprattutto al centro-nord per l'arrivo dal nord atlantico della perturbazione numero 3 del mese di dicembre che porterà tra il pomeriggio e la sera notte nevicate diffuse su quasi tutta la Valpadana. Andiamo a vedere l'immagine del satellite riferita alle 9 di questa mattina. Vedete ancora la nuvolosità che insiste soprattutto sulle regioni centro-merdionali proprio innescata da quest'aria fredda che continua ad affluire dalla Francia. Se invece diamo uno sguardo in aperto atlantico osserviamo due perturbazioni. Vedete quella ad ovest della Spagna che sarà raggiunta dalla perturbazione a carattere freddo che potete osservare sul nord dell'atlantico e che insieme determineranno il peggioramento nevoso di domani sulle regioni settentrionali. Il tempo allora nella giornata odierna al mattino cielo sereno al nord con gelate diffuse. Nuvoloso invece sulle regioni centro-merdionali con qualche rovescio sulle coste della Toscana, del Lazio, sulle coste della Calabria e su quelle settentrionali della Sicilia. Nel pomeriggio la situazione tende a migliorare sul versante del medio terreno. Le piogge e rovesci si concentreranno su Puglia, Calabria e Sicilia dove nevicherà sui rispettivi rilievi a quote superiore ai 1000-1200 metri. Per quanto riguarda le temperature queste saranno in calo sulle regioni meridionali ed in genere comprese tra 7 e 9 gradi al nord, tra 8 e 12 gradi al centro e tra 11 e 15 gradi al sud e sulle due isole maggiori. Concludo qui, vi ringrazio per l'ascolto e ancora una buona giornata.